Il Palazzo della Provincia di Reggio Calabria, oggi 26 luglio 2010, ci troviamo insieme ad Andrea Casile, sindaco di Bova, un sindaco della nostra area grecanica. Siamo qui per parlare di quello che è il Palearizza. Il Palearizza sappiamo essere comunque diventato un patrimonio della nostra area grecanica. Quindi per questo 2010 cosa possiamo dire? Sì, beh diciamo che intanto io qui rappresento il Galle, quindi la mia funzione è quella di direttore generale del Galle che è l'agenzia che organizza il festival e che è proprietario anche del marchio del festival. Sì, Palearizza diciamo che ormai è diventato un vero marcatore di aria, nel senso che parlare di Grecia di Calabria innettabilmente vuol dire anche parlare del festival Palearizza che è giunto al mare l'undicesima edizione e che in questi anni ha sicuramente attivato una serie di sinergie verso l'esterno che hanno fatto conoscere il nostro territorio. Palearizza è musica perché è un festival musicale ma è anche cultura, è anche neocastronomia, è anche tutto quello che in qualche modo può far conoscere il nostro patrimonio culturale al di fuori del nostro territorio. Gli enti che l'organizzano ogni anno ormai lo fanno anche volentieri perché capiscono sia i comuni che il territorio che collaborano in organizzazione ma ringraziamo anche la regione Calabria, la provincia, il parco, tutti gli enti che ci danno una mano anche a livello organizzativo e di contributo economico hanno coscienza che questo per il nostro territorio è un momento importante di valorizzazione e noi naturalmente riusciamo anche a portarlo avanti anche cercando di dare dei messaggi che vanno oltre quello che è il semplice messaggio diciamo di culturale legato a Grecia di Calabria. Quest'anno per esempio il tema del festival è legato all'anno internazionale della gioventù che ha come tema principale il dialogo tra le varie culture e proprio in questo senso il nostro festival vuole essere un festival che coinvolgendo tutte le culture del Mediterraneo in qualche modo vuole contribuire anche al dialogo tra queste culture. E con l'area canica sappiamo essere uno dei territori più belli della provincia regina quindi il paliarizzo abbiamo visto negli anni passati comunque va messo in onda tra virgolette su palcoscenici naturali stupendi vedi i pentitatti, l'obbova stesso. Quindi questo binomio è per valorizzare la cultura, il territorio e incentivare anche il turismo. Sì, noi infatti cerchiamo sempre di coinvolgere i vari sindaci del territorio cerchiamo sempre di valorizzare quelle che sono le parti più antiche e più belle del nostro territorio quindi per palizze, palizze superiori, per melito, pentitattolo, bova, brancleone superiore, insomma roccaforte con corio ma roguide vecchio stesso insomma quindi cerchiamo anche di fare un'operazione di conoscenza del nostro territorio di quelle che sono le nostre bellezze architettoniche naturali insomma e diciamo che ci stiamo anche riuscendo. Naturalmente il paliarizzo non può essere solo volano di sviluppo turistico del territorio il paliarizzo dovrebbe essere diciamo la chicca su qualcosa che si muove un po' più sul territorio sulla livella di economia reale e su questo naturalmente le istituzioni si stanno anche impegnando ma bisogna secondo me, lo continuo a dire ormai da un po' di tempo anche cercare di coinvolgere il territorio e modificare una mentalità, una cultura che è quello dell'investimento privato perché le istituzioni si devono dare loro il contributo, la politica deve dare loro il proprio contributo però senza l'investimento privato tutto diventa molto più difficile quindi è un processo lento che stiamo facendo ma io sono fiducioso e ritengo che prima o poi ce la faremo. Ecco ricordiamo le date, primo agosto, 21 agosto, le serate su tutti i paesi dell'area grecanica quindi che dire ai cittadini comunque anche che vengono al di fuori dell'area grecanica? Ma diciamo che ormai il paliarizzo ha un suo pubblico di affiazionati che ci segue tutto l'anno tanto è vero che noi già a gennaio iniziamo ad avere email sulla posta del festival o addirittura telefonate chiedendoci proprio le date del paliarizzo noi come al solito arriviamo sempre in ultimo a riuscire a dare delle date precise dal festival però il fatto che c'è questa vicinanza a noi, c'è anche un gruppo su facebook tanto per dire di paliarizzo che dialoga tutto l'anno ci dà coraggio, ci sostiene e ci incentiva anche ad operare affinché il festival venga ogni anno fatto. Bene, adesso cambiamo argomento visto che ci ritroviamo anche nella locandina di un convegno promosso dall'associazione Icora, un convegno che si terrà a Bova, la montagna che cambia il 29 di luglio alle ore 17. Vogliamo dire due parole su questo? Sì, questo è un convegno organizzato dall'associazione Icora con il patrocinio del Parco Nazionale del Comune di Bova e ritengo che sia un convegno importante perché parla proprio della voglia di una montagna che è la Spromonte, che sappiamo tutti un po' qual è nell'immaginario comune, come viene identificato però parla proprio di questa voglia di cambiare, di questa nostra montagna, di questo nostro popolo che abita questa montagna. E con quelli che sono i relatori, che sono i relatori molto importanti tra le altre cose, ricordiamo uno per tutti il senatore De Sena, il sottopregolatore di Cisterna, il professore Mollica, il prefetto dottore Varratta, il cappellano militare Don Vincenzo Ruggero, il luogo da niente, sì. Quindi tutte persone che in qualche modo conoscono questo territorio perché nelle loro varie funzioni hanno anche loro contribuito a modificare un'idea di questa nostra montagna. Questo è un contributo proprio che va in quella direzione. Quindi dire guardate che la Spromonte non è solo quello che viene fuori dall'immaginario collettivo, ma la Spromonte vuol dire anche cultura, vuol dire anche bellezza ambientale, vuol dire anche un popolo che è ospitale e che sicuramente merita molta più attenzione di quanto in questo momento gli viene data. Tra le altre cose devo raggiungere una cosa che proprio in quella giornata su Bova ci sarà farà tappa l'iniziativa dello SCI, il Servizio Civile Internazionale, in collaborazione con l'Associazione di Spromonte Liberamente, che stanno facendo un campo della pace a Monte Nardello. Il campo è legato all'iniziativa internazionale No More Wear e proprio quel giorno, il 29, faranno tappa a Bova, sono 40 persone che fanno questo campo e che fanno tappa nel nostro territorio. Quindi avremo anche la possibilità, insieme al convegno, di fare anche delle iniziative all'interno di questa iniziativa dello SCI internazionale. Bene, un altro appuntamento importante dunque nell'area grecanica per il 29 di luglio a Bova alle ore 17, la montagna che cambia. Grazie.